E' però lui era, era già matto. Ecco perché lo chiamavano il pittore delle agonie. Lo chiamavano così perché era uno che piaceva andare a dipingere la gente che era dietro a morire. Lo sapete che sia, parlo? Lo sapete che sia, voglio? Se vuoi cominciare a capirci qualcosa, devo portarti in un posto. C'è una casa dalle finestre che ridono. Ma questo è un grande pittore. Solo un grande artista può dare un senso così vero alla morte. Non far capire che sono io, devo parlarti. Credo di aver scoperto tutto, qualcosa di orribile. Lei non sa che cos'è il silenzio. Lei non sa che cos'è il silenzio. Ho mi casa, non leouni, devo partire.